Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io credo che sia importante e giusto sottolineare quando ci troviamo di fronte alla disinformazione o, ancora peggio, all'informazione che cerca di strumentalizzare la situazione che stiamo vivendo. Allora, ieri, come da titolo, leggo i commenti da parte di Fanpage ai dati di lunedì e Fanpage sottolinea che rispetto alla domenica i dati sono in rialzo. A parte che è un fatto che succede ormai da mesi e tutti quanti sanno che non può che essere così per una ragione molto semplice, che nella giornata di domenica notoriamente si fanno molti, ma molti meno, tamponi rispetto agli altri giorni della settimana. E quindi automaticamente, è abbastanza evidente, anche i numeri dei contagiati scendono. E domenica sono stati circa 9.300, un dato del genere, insomma. Mentre nella giornata di lunedì hanno avvicinato gli 11.000. E Fanpage ha sottolineato, drammatizzando questa cosa, in senso di preoccupazione, l'aumento dei dati. Poi a un certo punto, raccontando degli altri dati giornalieri che riguardano chiaramente le regioni e così via, mette il numero, semplicemente cita il numero dei tamponi effettuati che sono stati 144.000. Peccato che non fa l'unica operazione che avrebbe dovuto fare, quello di citare anche il dato della domenica, dove sono stati effettuati 98.000 tamponi, quindi ben un terzo in meno rispetto a quelli effettuati lunedì. E soprattutto non mette in evidenza l'unico dato, questo per quanto riguarda ovviamente i contagiati, importante, il rapporto. Il rapporto, e questa è una cosa che io dico da sempre, fra i tamponi effettuati e i contagiati. E il dato è stato un dato migliore rispetto alla domenica, perché se appunto facciamo questo rapporto tra i contagiati e i tamponi, vediamo che nella giornata di lunedì questo dato è sceso al 7,5%, mentre la domenica era al 9,4%. Quindi un dato sicuramente migliorativo. Allora, perché è grave quello che fa Fanpage? Perché io credo che noi tutti in questo momento, quando esiste la possibilità, dobbiamo ricevere delle buone notizie. Questo fa bene al nostro morale, fa bene alla nostra psiche ed è importante sottolinearlo. Ora, io credo che non bisogna dare per forza buone notizie quando buone notizie non ci sono, perché questo sarebbe totalmente sbagliato. Ma ripeto, quando in una giornata come quella di lunedì c'è un dato positivo che in quella giornata il rapporto tamponi fatti, contagiati, è sceso positivamente rispetto al giorno prima, esattamente 7,5% contagiati rispetto al 9,4% della domenica, io credo che sarebbe giusto sottolinearlo. E i giornalisti che hanno a cuore quello che è anche così lo stato d'animo della popolazione dovrebbero farlo. Cosa che ancora una volta, non so quanto volutamente, credo di sì perché altrimenti vorrebbero dire che sono dei cattivi giornalisti e devono cambiare mestiere, Fanpage non l'ha fatto. E a questo proposito, siccome poi io non sono uno che necessariamente per forza debba sempre criticare le gesta del governo e debba per forza criticare sempre l'informazione della RAI radio televisione italiana. Proprio stamane, stamane, la stessa Radio 1 nel telegiornale evidenziava questo fatto e per la prima volta, e io sono rimasto stupito di questo, ha proprio parlato del buon risultato, nel senso che è sceso il rapporto contagiati i tamponi da 9,4% del giorno precedente al 7,5% e ha sottolineato questo dato positivo. Vi assicuro che una delle primissime volte, perché purtroppo su mille informazioni che vengono date, una volta ogni tanto l'informazione è corretta, come è stata stamane. Come dovrebbe sempre essere, perché ripeto, noi abbiamo, il popolo ha anche bisogno, in questo momento, quando ci sono dei buoni dati, che questi dati vengono dati e vengono sottolineati. Poi purtroppo magari domani cambia tutto e questo è tutta un'altra storia. Però ripeto, quando ci sono delle buone notizie, queste vanno date, non sottaciute, come ha fatto colpevolmente, secondo il mio punto di vista, Fanpage. Con questo vi lascio, vi auguro una buona mattinata e ci sentiamo nel pomeriggio.